Il noto virus informatico CryptoLocker cambia forma e si diffonde attraverso una nuova email che sembra provenire dalla Procura della Repubblica, l'ultima trovata dei cybercriminali che si sta diffondendo in ambito nazionale e anche nel Molise. In sostanza è un finto avviso di garanzia che arriva sulla casella email, anche istituzionale, del malcapitato e sembra provenire da una Procura della Repubblica. Per ovvi motivi non è scritto né da quale procura proviene né il nome del presunto indagato, o semplicemente avvisa il malcapitato di essere stato genericamente indagato per un reato non specificato e di cliccare su un link per avere maggiori informazioni. Il finto avviso di garanzia che attira lo stupore e l'incredulità della vittima, oltre a suscitarne i più comprensibili timori, in realtà è il mezzo per celare il virus CryptoLocker. Pertanto appena si clicca sul link si installa il virus che infetta il PC bloccandone tutti i dati, chiedendo il pagamento di una somma in bitcoin, moeta virtuale poco tracciabile, per riavere la disponibilità del file. Il primo consiglio è come sempre quello di non cliccare mai su questi link e gli avvisi di garanzia non arrivano per posta elettronica e non sono così generici. Qualora invece il computer venisse infettato, non procedere mai al pagamento perché i file ad ogni modo non vengono restituiti. I malfattori provenienti da contesti internazionali cercano in questo modo di procurarsi del denaro e sebbene la polizia postale e delle comunicazioni, anche attraverso l'Interpol, continui in attività investigative volte a reprimere il fenomeno, l'arma vincente risulta essere sempre la prevenzione di fidare da questa tipologia di mail.